Udite udite, signore e signori, Papyrus darà la sua sullo scambio incredibile di questo inizio di sessione di mercato, Manolas diavarà, e dirò una cosa controcorrente, perché sì, un po' perché mi va di dire qualcosa controcorrente, perché sennò sarebbe troppo semplice dire che la Roma ci straperde, e mi va proprio di dire che invece, secondo me, alla fin fine la Roma ci guadagnerà, ma attenzione, calma, calma, prima di dirmi che cazzo stai, calma, ragioniamo un attimo, è vero, Manolas andrà al Napoli per una cifra veramente irrisoria, 35 milioni di euro, dati dai, se non sbaglio, tra i 15 e i 18 milioni, più il cartellino di Biavara, uno normale direbbe, ma che cacchio stanno a fare quelli della Roma, cioè si stanno proprio svendendo completamente, e mi trovate d'accordo da questo punto di vista, anche perché Diavarà, per quello che ha dimostrato a Napoli, è stato eccessivamente valutato, quasi un 20 milioni di euro, direi che sono un pochino troppi per ciò che ha dimostrato a Napoli, e avete ragione anche qui, ma, badate bene, secondo me le qualità il ragazzo ce li ha, sto parlando ovviamente di Diavarà, tutti quelli che dicono che è un pacco, che è un bidone, che è veramente scarso, per me sbagliano, e sbagliano di grosso, perché secondo me Diavarà, essendo anche molto giovane, è un giocatore di ottima prospettiva, secondo me quest'anno, badate bene, la prova a sparare, farà molto, 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 molto bene, alla Roma serviva come il pane un centrocampista come Diavarà, che dovesse sostituire, diciamo, un giocatore come De Rossi, quindi aveva bisogno di un giovane per rinforzare la rosa, e un giovane come Diavarà, secondo me, farà veramente tanto, tanto bene, ovvio, c'è da dire che adesso la Roma deve intervenire, a parte sul portiere, perché oltre se non deve vendere a tutti i costi, ma deve anche intervenire sulla difesa, perché dai via uno come Manolas, dovresti riuscire a trovarne almeno un sostituto adeguato, proveranno a prendere sicuramente, secondo me, qualche giovane, perché da adesso in poi, sono convinto, la Roma proverà a prendere solamente giocatori giovani alla Under-Kleivert, appunto, Diavarà, questo perché, secondo me, la Roma sta cercando, da quel che sto vedendo, di spendere il necessario per stare all'interno dei costi, cioè non cerca mai di creare debito come magari può fare un Inter, una Juventus, eccetera, ma cerca sempre di rientrare nei costi come magari sta facendo negli ultimi anni. Può essere una cosa positiva o una cosa negativa? Sicuramente puntare sui giovani è sempre positivo, vedremo che cosa succederà. Sicuramente una cosa negativa è il saper spendere questi soldi che guadagnano, perché se tu mi guadagni 45 milioni per la vendita di Salah e poi mi vai a sostituire Salah con uno chic, spendendo la stessa cifra, io vengo da te e ti dico che cazzo stai a fa' perché vai a spendere gli stessi soldi per prendere un giocatore giovane quando hai già un giocatore già ve l'è fatto e finito, che non era neanche vecchio, quindi non ha molto senso come concetto. Ci sta che sei obbligato a vendolo per entrare nei costi del fair play finanziario, 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 ciao, del 30 giugno, ma non ci sta assolutamente rispenderli due giorni dopo, perché lo puoi fare da due giorni dopo in avanti, per un altro giocatore che era una grande scommessa, ecco, quello non ha senso. Secondo me alla Roma non arriveranno giocatori come i Guain, io credo che alla Roma arriveranno più che altro giocatori tra i 25 e i 26 anni massima, quindi credo che cambierà un pochino il progetto Roma, almeno questo è il mio punto di vista, però secondo me, raga, puntatevela questa cosa, poi mi direte, Papillo si è detto una strozzata, io dirò, vabbè, ci ho provato, ho voluto provare a dire una cosa diversa dal solito, però secondo me Diavara farà molto, molto, molto bene. Vedremo che cosa farà invece Manolas Koulibaly come di coppia difensiva del Napoli, sicuramente in prospettiva, secondo me, da vedere per l'anno prossimo, è una bella difesa, finalmente il Napoli c'è una bella difesa, vedremo poi se anche sugli esterni acquisteranno qualcuno, e vedremo se riusciranno a colmare il gap con la Juventus, anche se siamo ancora lontani anni luce, fatemi sapere un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questo cambio, grazie mille per aver visto questo video, un saluto, ciao da Papillus.